Concessionaria Nissan L'Auto a Cosio Valtellino A Bormio si lavora a pieno regime in vista dell'appuntamento clou della stagione, il ritorno della Coppa del Mondo di Scialpino sulla pista Stelvio. Con l'arrivo di nuovi 18 cannoni per la produzione di neve artificiale, la Sib, la società impianti Bormio guidata da Valeriano Giacomelli, potrà garantire temperature permettendo l'annevamento ideale per una competizione di altissimo livello, come l'organizzazione dell'Alta Valle, abituato a atleti e pubblico. Tutto procede nel migliore dei modi, ha confermato il numero 1 della Sib. Saremo in grado di garantire gli standard di qualità necessari. Il rinnovato sistema di innevamento permetterà di produrre 100.000 metri cubi di neve, indispensabili per la preparazione completa del tracciato, sul quale scenderanno gli uomini jet. Si è quindi ritenuto necessario anche un intervento sulla rete idrica, che sarà potenziata, oltre alla realizzazione di una bretella, per il passaggio dagli sciatori sotto il tracciato di gara, senza chiusure delle altre piste. Noi avevamo qualche difficoltà in quanto alla schiaria di Bormio, la pista a Stelvio divide in due la schiaria. Stiamo realizzando un tunnel per far sì che tutti i fruttori della montagna in quel periodo di altissima stagione e anche durante le gare possano bypassare la pista a Stelvio. Questo è il nostro obiettivo, quindi per questo oltre all'innovamento stiamo facendo questo lavoro per garantire tutti, voi gli atleti, voi chi viene a sciare e possa girare tranquillamente sulla schiaria.